In prefettura a Palermo un vertice sui beni confiscati e la mafia che parte da resurrezione, l'operazione di polizia che ha appena confermato l'infiltrazione delle cosche nell'economia del capoluogo. Per l'inizio di questa conferenza una riflessione, c'era anche il procuratore De Lucia, per dire come la mafia si ha subito dei colpi grossissimi, l'ultimo più grosso dei quali sappiamo tutti, Matteo Mastiglia De Noro, ma la mafia tende a riorganizzarsi, continua a svolgere estorsioni che è appunto quello che dà loro l'attaccamento al territorio. Al tavolo con i sindaci si discute di 400 tra immobili e aziende da assegnare tra il capoluogo, la provincia di Agrigento e Siena. Il governo annuncia una corsia preferenziale per individuare gli assegnatari nel sociale. Stiamo pensando ad una white list del sociale che possa in qualche modo ridurre anche la parte della certificazione e dei controlli e quindi avanti tutto perché riteniamo che l'agenzia anche con un grande input da parte dello stesso ministro Piantedosi ha visto anche un rafforzamento nell'ultimo decreto Il 68% delle aziende sequestrate sono scatole vuote, nate per produrre fatture false, ma a preoccupare è la quota di aziende vere che dopo la confisca vedono restringersi il credito bancario. Abbiamo un 27% di aziende che vanno monitorate, dalle quali dobbiamo necessariamente impegnarci proprio per una migliore condizione di accesso al credito. Il comune di Palermo intanto firma un protocollo di intesa con la Prefettura per velocizzare le assegnazioni.